eccoci qua ciao acquario benvenuto andiamo a vedere con le mie carte oracoli e tarocchi cosa ti sta per accadere non chiederò tempi in questo video quindi avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai anche fossero passati anni dal momento della della pubblicazione va bene mettiamo un attimo gli oracoli in attesa scusate i tarocchi in attesa e partiamo appunto dai miei oracoli questi sono carte a un mazzo di carte che ho creato io come vedi se ti interessano queste carte trovi le informazioni giù nella descrizione di questo video oppure puoi semplicemente chiedere informazioni scrivendo una mail a le carte di penelope chiocciola gmail.com andiamo a vedere adesso subito così a bomba guarda la riuscita acquario meglio di così quindi stavo dicendo vediamo cosa sta per accadere al segno zodiacale dell'acquario così proprio la devozione guarda com'è anche questa carta questa mimmina che si abbraccia il cavallo con tutto questo amore la devozione e la generosità guarda nel taglio del mazzo la serenità qui c'è qualcosa è la novità che qui sembrerebbe affettiva no visto questo cuoricione grande allora qui c'è un qualcosa che sicuramente si va a risolvere si va a risolvere in questo periodo quindi dal momento in cui lo vedrai vedrai questo video io non credo che tu debba aspettare molto è non credo non credo ci sia da aspettare molto queste sono carte che parrebbero parlarmi di un qualcosa di veloce comunque lasciamo i tempi da una parte qui c'è una riuscita c'è una vittoria di un certo tipo quindi qui parrebbero parlarci di un qualcosa a cui su tieni molto va bene un qualcosa che per te è molto molto importante ovviamente in cui ha investito sta investendo molto cuore qui c'è la devozione quindi qui mi parlano di una situazione di una persona eccetera eccetera a cui su tieni a cui sei devoto nel senso a cui proprio tu tieni tu tieni molto questo mi pare mi pare evidente in cui c'è il cuore coinvolto qui c'è una novità c'è un qualcosa di nuovo entra che entra in scena va bene anche un invito se tu vuoi e qui vedo anche un invito un qualcosa che viene proposto un qualcosa che arriva a una carineria un gesto carino che viene fatto nei nostri confronti quindi posso pensare ad un invito ad un regalo insomma ad un qualcosa di carino che ci arriva che ci viene manifestato che ci viene espresso va bene ora vediamo naturalmente i tarocchi quindi queste sono carte che già di suo promettono una situazione che si accomoda che si si aggiusta che porta serenità ma anche novità quindi una comunicazione se tu vuoi anche una comunicazione affettiva un messaggino carino una telefonata insomma capito ma anche un qualcosa che riusciremo a risolvere un qualcosa che riusciremo a vincere qualcosa che riusciremo a portare a compimento cioè qui c'è la riuscita di qualcosa a cui teniamo molto va bene ci siamo fin qui vediamo adesso i tarocchi che cosa hanno da aggiungere o da rettificare l'ultima parola ce l'hanno sempre loro come ovvio che sia vediamo per questo segno zodiacale cosa vedete accadere vediamo cosa sta per accadere per il segno zodiacale dell'acquario prima carta lotto di coppe per il segno zodiacale dell'acquario cosa sta per accadere accidenti come è volata il bagatto vedi 8 di coppe bagatto accidenti il carro ma non avevamo dubbi sinceramente visto già queste carte qui non c'erano dubbi su come andassero le cose comunque vediamo cosa sta per accadere al segno zodiacale l'asso di coppe guarda come vedi richiama molto questo qui c'è un cuore qui c'è una coppa strabordante d'amore e di sentimento qui c'è ci potrebbe essere proprio una comunicazione una telefonata un messaggio d'amore una nuova conoscenza anche o comunque un momento carino un gesto carino un gesto romantico vedi che coinvolga il cuore insomma che arriva dalle su parti insomma queste sono carte fin qui molto positive vediamo cosa sta per accadere vediamo per il segno zodiacale dell'acquario segno zodiacale acquario qui era volato il 7 di spade e insieme sono volate insieme e l'asso di denari quindi già qui ci sono due assi un asso di coppe e un asso di denari quindi qui litigano quale fra le due è la più bella e il 6 di denari guarda e qui c'è i 3 di coppe no via allora qui c'è qualcosa di assolutamente positivo guarda ti dirò di più ti dirò di più qui ci può essere senz'altro una promozione un qualcosa di favorevole un avanzamento nella carriera nella carriera nel lavoro quindi io non so che cosa tu che cosa tu faccia ma c'è qui c'è un qualcosa che che avanza nel senso positivo quindi un qualcosa di nuovo qui per alcuni di voi non voglio dire per tutti per carità ognuno avrà la sua vita però ci potrebbe essere l'abbandono di un luogo e il recarsi verso un altro luogo quindi o proprio un trasferimento di lavoro o semplicemente lasciare un lavoro per andare verso l'altro lavoro capito tutto sto passaggio fatto un pochino in modo anche un po malizioso è senza troppo sbraitarlo ai 4 20 quindi qui qui c'è anche questo c'è un qualcosa magari siamo stati attenti fino all'ultimo no un po un qualcosa che ci ha tenuto diciamo così un po con il fiato con il fiato sospeso ecco questo volevo questo volevo dire a guarda qui in special modo se tu sei una donna in special modo vuol dire solo se in special qui c'è un ragazzo c'è un giovanotto diciamo una figura maschile va che si potrebbe proporre si potrebbe proporre invitarti a cena invitarti fuori farti un po stavo dicendo la la serenata un tizio somma abbastanza furbetto a dire il vero questo è un figlio di buona donna capito c'è un pochino il difetto di sparire sparisce poi ritorna sparisce poi riappare insomma fa girare un po il capo sinceramente però insomma qui in questo frangente acquario qui fanno vedere che ci dovrebbe ci dovrebbe essere un soggetto bello bello tosto fammi vedere cos'è quel sette di spade cos'è quel sette di spade per l'acquario vedi qui c'è contentezza per te io ti vedo novità contentezza un qualcosa di favorevole di nuovo però c'è qualcosa dentro di sé che non ti sconfinfera sai un qualcosa che 8 di bastoni vedi 8 di bastoni il 10 di bastoni e infatti il cavallo di spade allora qui ti confermo sicuramente c'è questo discorso anche sul lavoro sta attenzione si sta attenzione vuol dire sta attento acquario comunque fai attenzione anche alle parole a quello che tu dici special modo sul lavoro qui tu potresti rischiare di dire un qualcosa troppo velocemente con la bocca potete potresti pentire e via e via andare va bene ma io penso che qui i casi sono due o siamo tutti felici o viceversa qui c'è anche un po' di paura un po' di paura un po' di ansia ad assumerci questa responsabilità qui c'è in ballo c'è in gioco un'assunzione di responsabilità abbastanza importante quindi che sia semplicemente un ruolo sul lavoro no che ci vogliono dare più responsabilità o semplicemente una mole di lavoro troppo pesante per noi quindi insomma c'è un po' un acquario alle prese con queste cose però queste sono carte insomma assolutamente fantastiche qui c'è la riuscita in qualcosa a cui tieni molto c'è un'uscita c'è un invito c'è sicuramente una persona vicino a noi che si propone che ci può portare fuori eccetera e anche una riuscita molto importante per quanto riguarda il lavoro se poi il lavoro tu ce l'hai ancora meglio perché qui tu lo trovi capito qui qui tu lo puoi trovare benissimo quindi acquario datti datti da fare mammi vedere vedi guarda qui ci potrebbe essere anche un acquario che si è allontanato che si sta allontanando da da una persona che non era troppo predisposta o disposta a concederci a donarci a darci quello che noi invece chiedevamo quindi qui c'era stata un po una capito ma qui vedo un avvicinamento qui vedo assolutamente un avvicinamento poi bisogna vedere insomma nel futuro questa persona che cosa farà perché qui fanno vedere un po di come dire di alte e basi comunque qui per il momento la cosa si risolve l'importante è quello poi il futuro lo vedremo nelle prossime estese qui la cosa si risolve io che ci vedo il messaggio l'invito la persona che si propone e via e via andare guarda potresti anche conoscere un'altra persona capito visto che quest'altro o quest'altra persona insomma fa un po' gioini va un po' avviene non si sa bene che vuole ma io qui non escludo che tu possa conoscere anche una persona nuova del resto qui c'è la novità qui c'è la novità quindi non lo escludo non lo escludo affatto vediamo i segni zodiacali con i quali più tu sarai tu avrai a che fare tu sarai in contatto qui mi è volato subito il segno dell'ariete vediamo un po l'acquario con quali segni zodiacali avrà più a che fare a che fare in questo periodo ok qui mi è volato il segno dei pesci il toro il capricorno la vergine il capricorno viene subito confermato cos'altro con quali segni zodiacali verrà più a che fare avrà più a che fare il segno dell'acquario la bi guarda direttamente due volte due volte direttamente la bilancia tiriamone un altro per l'acquario quali segni zodiacali vedete più coinvolti insieme a quello dell'acqua dell'acquario il capricorno di nuovo quindi viene confermato per la terza volta e proprio l'acquario lo mette pure sotto il mazzo proprio l'acquario quindi basta mi fermo qui segno che ci dobbiamo ci dobbiamo fermare va bene acquario fammi sapere un pochino chi e cosa ti richiamano queste carte sappi che qui c'è una riuscita di un qualche tipo sul lavoro sicuramente ma io ci vedo anche qui la sfera affettiva e ti porterà sicuramente tranquillità e serenità fammi sapere mi raccomando eh io ti aspetto qui tu lo sai al mio prossimo video ciao acquario eccoci qua vi lascio ai miei vino ciao 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 Grazie a tutti.